Nata in una famiglia nobile, da madre torinese e padre napoletano, che svolgeva l'attività d'avvocato, Valeria De Franciscis ricevette sin da giovane un'educazione rigida. Quando aveva appena 4 anni morì la madre e il padre successivamente si risposò. Nel 1981 morì all'età di 66 anni il marito della De Franciscis. Appare brevemente in estate romana. 2000, di Matteo Garrone, futuro produttore di Pranzo di Ferragosto. 2008, di Gianni Di Gregorio, in cui interpreta all'età di 93 anni la madre del protagonista. Gianni Di Gregorio, film presentato con successo alla 65esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Per la sua interpretazione, fu premiata al Batik Film Festival di Perugia come miglior attrice esordiente e vinse il premio. Sosterzio d'argento, nel 2009 ha partecipato invece al film I mostri oggi di Enrico Oldoini. Nel 2010 torna ad essere diretta di nuovo da Di Gregorio, questa volta in Gianni e le donne, ancora nei panni della madre del protagonista, come lo fu in Pranzo di Ferragosto. La verve comica dell'attrice non può essere ancora ignorata e ottiene nel 2011 una candidatura ai. David Di Donatello come miglior attrice non protagonista. Risultando tra l'altro la più longeva attrice a ricevere una candidatura al premio. Nell'anno dei suoi 96 anni è anche la più anziana attrice ad avere una candidatura a un premio. Cinematografico nel mondo. Superando l'attrice Gloria Stewart candidata nel 1998 all'Oscar come miglior attrice non. Protagonista nel film Titanic a 87 anni. È scomparsa nel 2014 all'età di 98 anni.